Siamo in via Zanardelli a Trani e anche qui le luminarie natalizie. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! Poi c'è l'albero tutto illuminato di rosso laggiù. Grazie per la visione! 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 Grazie! Grazie per la visione! 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 questi sono i money bag e questi invece sono l'ingoltini con le verdure buonissime tutto buonissimo questo sono con l'aventato locale ok questo invece con cetriolo e salsa guacame e questo sono poi cetriolo cetrioli salsa guacame perché non so se sente la tua voce come per sicurezza lo rinco ok sono bellissimi sono buonissime proprio buoni buoni e sono gli spagetti di soli o di riso di riso di riso con le verdure ok e Grazie a tutti. 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 Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti da finestra libera, da noi, Renzo, Massimiliano, Kenny e piove. Piove a tratti, Natale bagnato e Natale fortunato. Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Grazie a tutti. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale a tutti. Grazie 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 a tutti. Ed è un negozio bellissimo con un sacco di cose belle e carine. Grazie a tutti. Grazie a tutti.